prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace grazie una vacanza in famiglia che si è trasformata in tragedia a raccontare quanto accaduto nel queensland in australia è una turista jane carey jane era in vacanza col marito dave hogben a cooktown nel queensland in australia quando il quarantenne di newcastle è caduto in fiume la donna è scivolata con lui ma il marito ha lasciato andare il suo braccio e così le ha salvato la vita un istante dopo l'uomo è stato afferrato da un coccodrillo di 5 metri jane ha detto al giornale locale che dave non stava facendo nulla di sbagliato e che l'intero episodio è durato solo 30 secondi e dopo giorni di ricerca gli ufficiali della fauna selvatica hanno rinvenuto dei resti umani all'interno di un coccodrillo la polizia del queensland ha poi confermato che è in corso un processo di identificazione formale e che sarebbe stato redatto un rapporto per il medico legale ma non paiono esserci dubbi sul fatto che si tratti di hogben